Ciao a tutti gli amici di Musica in Contatto, io sono Phil e sono qui per parlarvi del mio primo progetto solista di musica strumentale. Questo progetto diciamo che poggia su tre colonne portanti che rappresentano mie altrettante passioni. La prima passione è per gli ambienti naturali, in particolare per tutto quello che la natura è in grado di darci sia a livello fisico che a livello sensoriale. La seconda passione, anzi direi attrazione, è per la comprensione e la descrizione delle emozioni umane. Infine, ultimo e non ultimo, il mio fortissimo amore per le sonorità celtiche, in particolare di quelle appartenenti alle terre d'Irlanda e Scozia. Questo progetto ha già dato vita ad un primo disco uscito nell'ottobre 2020 e ha due singoli dal titolo Bliss e Journey Through the Spiral. Potete ascoltare tutto quanto sia su Spotify che su Bandcamp. Vi trovate anche su Facebook e Instagram. Detto ciò, ringrazio la redazione di Musica in Contatto per avermi concesso questo spazio e ti lascio con un brevissimo astratto del mio disco. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!